La partita è sicuramente tenuta in pugno dall'inizio alla fine, la partita risolta dagli episodi a nostro favore nel primo tempo. Abbiamo sofferto un attimino semplicemente col fatto che la partita è sicuramente tenuta in pugno dall'inizio alla fine, la partita è sicuramente tenuta in pugno dall'inizio alla fine, la partita è sicuramente tenuta in pugno dall'inizio alla fine. Chiediamo un commento su questa bella vittoria a Marcello Esposito, autore oggi di un poker. È stata una bella partita, non facilissima, potevamo solo vincere per arrivare i primi in campionato, abbiamo vinto, abbiamo dimostrato che la squadra al completo è una buonissima squadra, ma abbiamo tante partite difficili da adesso in poi che invece vogliamo e dobbiamo andare a vincere. Grazie Marcello, ci vediamo le prossime partite. Grazie, ciao Ivan. Ed ora siamo con Dario Carnelli, oggi allenatore supplente del San Damiano, mentre vediamo le azioni della partita anche lui chiediamo un commento. La partita, naturalmente i valori tecnici in campo sono diversi in virtù delle rose di entrambe le squadre, ma il San Damiano ha fatto di tutto per onorare la gara e fare di tutto per cercare di mettere in difficoltà questo Tognolo che meritatamente vince questo campionato di Under 21 e noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo preparato la gara in questo modo e quindi sono molto soddisfatto dei ragazzi e del loro comportamento. Grazie Dario, ci vediamo nei play-off. Va bene, grazie a voi.